Non alla chiusura al traffico di via Milazzo e risanamento della riva del fiume, sono queste le richieste che i residenti di Borgo Basso hanno messo nero su bianco in una petizione, preoccupati dalla volontà del Mezzabarba di rivedere la viabilità della zona. Il modo che chiediamo ai nostri concittadini per aiutarci è di accedere e di cercare di poter firmare la petizione del Borgo che abbiamo creato, quindi ci sono diversi moduli, potete recuperarli tramite salviamovia Milazzo, chiocciola, libero.it. Troppe le auto in transito su via Milazzo aveva spiegato nei giorni scorsi l'assessore Lazzari, ma un'eventuale limitazione creerebbe diversi disagi, soprattutto alla popolazione anziana. Penso soprattutto alle persone anziane, persone malate, persone che hanno bisogno di un'assistenza e anche di una compagnia. I tre figli che ho, di cui uno solo risiede qui in Borgo, per soccorrermi e aiutarmi in tutti i miei bisogni, dalle spese al medico e tutto quanto, devo ricorrere alla loro. Sono tre auto diverse, quando non c'è una figlia, quella di Travacò, c'è magari un nipote, allora se mi penalizzano anche qui, per me è finita. L'idea dell'amministrazione è di limitare l'accesso a via Milazzo a due fasce orarie, corrispondenti a pranzo e cena, una scelta che non convince i ristoratori. Se non trovano parcheggio non scendono, ormai la gente è abituata a arrivare al ristorante e trovare parcheggio, insomma. Qui noi abbiamo tanta gente che viene, veniva e non viene più. Non solo la chiusura al traffico, anche il risanamento della riva, soprattutto dopo l'ultima piena, è un problema da affrontare. Ci sono diverse tecniche di recupero, afferma un residente, che potrebbero fare al caso di Borgo Basso. Non è che dobbiamo anche inventarci delle cose, diciamo, di punto in bianco. Ci sono tante esperienze in Europa, pubblicate e, diciamo, accessibili, che fanno esempi di recupero delle rive. Un problema già sollevato nel 2011 dal consigliere del PD Maggi è che Aipo, l'ente competente, deve ora sanare. Lavori di consolidamento che sono in previsione, ha confermato Lazzari, nelle ultime ore. Le competenze per quanto riguarda la parte dell'alveo sono dell'Aipo. L'Aipo aveva detto ancora negli anni scorsi che era un problema di impatto di stabilità e che sarebbe intervenuta. È arrivato il momento in cui l'Aipo debba effettivamente intervenire. E dopo l'istanquestion di lunedì scorso, anche il consigliere Mognaschi lancia una proposta all'amministrazione. Sentirò l'assessore Lazzari, gli proporò di venire qui una mattina dalle 7 alle 9, così conteremo insieme le macchine entrate e uscite. Magari nel frattempo ci facciamo anche un giro con i residenti, così potrà sentire dalla viva voce ai residenti i disagi che provocherà.